Quando il caos congestiona le tue giornate Quando le domande affollano la tua mente, non ti arrendere Prova attivamente, a base di filensofia Leggere con calma il foglietto illustrativo Indicazioni, stimola l'indagine critica e la riflessione Controindicazioni, l'uso prolungato, può scatenare dubbi, senso di smarrimento, raramente confusione Ricauzioni per l'uso Il farmaco va assunto con cautela dai soggetti affetti dalla sindrome dell'io Meglio conosciuta come presunzione cronica Avvertenze E' importante sapere che l'uso del farmaco nel tempo può modificare la visione di se stessi, degli altri e del mondo Dosi Illimitata da 0 a 100 anni Sovradosaggio L'uso prolungato può creare dipendenza L'uso prolungato può creare dipendenza